Con il comandante della Polizia Municipale questo inconveniente, fortunatamente però non è successo nulla di grave. No, il Filippo Vannozzi è stato trasportato all'ospedale, sembra con un codice 2, quindi era cosciente. Già a bordo dell'ambulanza c'era Alessandro, il babbo, è stata presa questa decisione all'unità per garantire la sicurezza dei cavalli e dei giustratori. Grazie. Grazie mille.